amici bianconeri del canale buonasera allora stasera non ho visto la partita quindi ho visto solo gli highlights i commenti i vari le varie live poi degli youtuber allora adesso nel momento clou della stagione quello che vediamo è un lavoro di 6 7 mesi che non ha portato nulla nessun valore aggiunto rispetto all'anno scorso bisogna prenderne atto a mi sembra di essere tornato un anno di allegri salvato da quel gol di quadrado al 93esimo nel derby il secondo anno ci fu la sterzata la presa di coscienza dei senatori l'autogestione i giocatori che dissero adesso si gioca con questo modo qua modulo qua e e ci fu il cambiamento totale la juventus avrebbe bisogno di questa sterzata non la vedo facile non la vedo facile perché abbiamo un parco di giocatori che viene da otto anni di successi da 5 da 3 da 4 con la pancia piena altri giocatori che non si sono integrati o perlomeno che non sono stati valorizzati dalla conduzione tecnica dell'allenatore e vedo un allenatore in confusione alla confusione mi è stata determinata sull'1 a 1 Sarri si decide a fare una mossa che deve fare da quando ha i terzini titolari di ruolo e fa entrare De Sciglio e rimette a quadrada il suo ruolo siamo all'ottantesimo 81esimo 1 a 1 dopo 4 minuti lo scellerato fallo di mano di Bonucci che porta poi Pazzini a fare il gol della vittoria ora è un allenatore in confusione è in confusione dichiara di aver fatto un gran primo tempo oggi quando nessuno ha visto un bel primo tempo oggi io non l'ho vista è la partita però vedo che mi dicono anche gente che era allo stadio al Bentegodi che si era vista live ha detto giochiamo da schifo non ci siamo eccetera i soliti discorsi centrocampo non c'è quindi un allenatore in confusione che mette la gente fuori ruolo poi si accorge e dice aspetta forse è meglio che la rimetta in ruolo e finalmente mette De Sciglio a terzino però io credo che sia anche un allenatore che è arrivato con poco consenso da parte dei senatori e dei fuoriclasse che abbiamo Ronaldo in primis quindi è poco seguito a questo punto la società che è rimasta colpevolmente troppo distaccata compreso nel mercato di gennaio perché la società non ha fatto niente per aiutare quest'allenatore e in qualche modo adesso deve intervenire perché siamo arrivati abbiamo toccato il fondo perché vai a perdere 2 a 1 a Verona non mi dite che Juric ha trasformato Juric ha una squadra da serie B che la sta salvando e questo bisogna dare di altro una squadra anche di cadaveri della Juventus come Rosa anche che non abbia dormito la notte prima deve venire a 4 a 0 e invece no si aggrappa sempre all'invenzione del fuoriclasse quindi valore aggiunto rispetto agli anni di Allegri non ce ne sono non ce n'è quindi abbiamo un allenatore in confusione continua a insistere con Quadrado e Trezino e non lo è eppure lui sta facendo bene i giocatori che non lo seguono io non credo che questi giocatori siano convinti del proprio allenatore quindi c'è uno scollamento proprio all'interno dello spogliatoio tra il mister, il suo staff e gli allenatori in più cosa possiamo dire proprio siamo nel tunnel non siamo usciti dal tunnel non siamo spumeggiati fino a tre o quattro partite fa eravamo anche in palla fisicamente adesso non so se non siamo in palla fisicamente di certo sembra che non ci siamo proprio sulle gambe ma questo la dà la testa a questo punto è più mentale che fisico non credo che siano i carichi di lavoro fatti per la Champions perché ormai febbraio tra due o tre settimane non si dovrebbero più sentire quindi è proprio uno scollamento mentale e psicologico manca l'approccio alla partita come è stato con Napoli come è stato anche in casa con la Fiorentina e io l'ho vista con la Fiorentina in diretta non è stata una bella partita se al solito approccio non lo so io vedo adesso colpevolmente la società troppo staccata dalle problematiche dall'allenatore io vorrei vedere come ai tempi di Moji Geraudo Bettega agli allenamenti Agnelli Nedved Paratici li vorrei vedere non alla Continasse in ufficio a bordo campo tutti e tre tutti e tre a bordo campo tanto Paratici il mercato ha finito non è combinato un cazzo se ne stanno quelle due ore al giorno se ne stanno lì o al mattino pomeriggio quattro ore massimo se ne stanno lì alla Continasse se non c'è se adesso in questo momento la società colpevolmente è di petto assente anche sul mercato non dà sostegno alla squadra ma soprattutto non si fa vedere dalla parte dell'allenatore è finita noi facciamo zero titoli quest'anno e inevitabilmente con zero titoli si deve ricominciare da capo nuovo allenatore tutta nuova gente è Ronaldo che se ne va via entreremo nella storia per aver fatto andare via Ronaldo e la squadra che con Ronaldo non ha vinto la Champions mettiamocelo bene in testa ho visto il Lione recentemente io vi assicuro che il Lione si gioca come in Coppa di Francia io l'ho visto su Sport Italia in Coppa di Francia si gioca come in Coppa di Francia ora con la Juventus di adesso di queste ultime giornate di Napoli di Verona in casa con la Fiorentina ci butta fuori agli ottavi ci butta fuori agli ottavi tranquillamente anche perché poi Garzia ci conosce quindi ci butta fuori agli ottavi comunque ci vedremo alla prossima dobbiamo andare a Milano mi sembra giovedì in queste condizioni anche Milan ce ne dà un paio perché ce la voglio dire come ci 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 maltrattano gente che lotta per la retrocessione anche il Milan può farlo tranquillamente è una 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 situazione che Allegra aveva vissuto ottobre novembre di quell'anno e da quale ebbe il tempo di tornarcene fuori non so se sare al tempo di tornarcene fuori ha i mezzi e è sostenuto dalla società e dai senatori per tornarcene fuori anzi il contrario secondo me i senatori stanno rimando contro buonanotte sempre comunque forza Juve fino alla fine adesso c'è la diatriba aziendalisti non aziendalisti io non credo di essere né di aziendalista né un disfattista credo di ponderare obiettivamente tutte le varie situazioni non sono stato esaltato dal 3-0 in casa con la Fiorentina sono però preoccupato adesso per la situazione in essere ormai è una striscia di approcci mentali e fisici alle partite sia con squadre di valore che con squadre che è deleterio non lo vorrei definire ignobile che è una parola troppo non voglio abusare di una parola troppo forte sicuramente non dignitoso per quello che per i giocatori per la struttura per la per la società Juventus e per quello che si è promessa col cambio radicale di filosofia e di mentalità epocale che vuole attuare non è assolutamente etico deontologico professionale la vedo molto molto biasimevole molto biasimevole ciao buonanotte alla prossima ci risentiamo prossimamente seguite perché forse seguirà qualche video perché questi sono pietremigliari in negativo e che quindi potranno avere un seguito buonanotte per la prossima